Ancora sul set di Miss Calendario 2014, siamo insieme a un'altra ragazza che partecipa a questa sfilata, a questa presentazione del calendario. La andiamo a conoscere. Come ti chiami? Mi chiamo Santa Pavone, ho 16 anni, sono di Avella. Allora, questa manifestazione vogliamo spiegare un po' ai nostri lettori quando si svolgerà, dove? Allora, vi invitiamo e vi aspettiamo tutti il 30 dicembre nel Vicolo Parià di Serignano e presentare il calendario. Allora, durante questa manifestazione chiaramente ci saranno anche altre iniziative. Ti è piaciuta questa esperienza? Sì, mi sono divertita molto e comunque è stata una nuova esperienza e molto bella. E un'ultima domanda, prima di salutarla, gli vogliamo chiedere tu nella vita che vorresti fare? Mi piacerebbe diventare hostess, ma mi piacerebbe anche il mondo dello spettacolo e della moda. Quindi anche modella, se si può. Ok, poi la conosceremo meglio in quella serata. Vi auguriamo quindi un buon proseguo e vi aspettiamo tutti il 30 dicembre alle ore 20. Grazie. Grazie.